Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. Apriamo questa edizione del nostro notiziario con il maxi sequestro di sostanze stupefacenti a gele eseguito dai carabinieri. Ha arrestato un pregiudicato. La droga, oltre 4 kg di hashish e 25 g di marijuana, avrebbe fruttato circa 50.000 euro. Vediamo. 4,3 kg di stupefacente trovati nella sua abitazione. Luigi Di Noto, gelese di 33 anni, è stato arrestato questa notte dai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Gela. Proseguono senza sosta le operazioni antidroga dei carabinieri con un'attività che parte dal basso, ovvero dai consumatori di sostanze stupefacenti, spesso purtroppo giovanissimi. Il comandante Valerio Marra. Comandante, il bilancio di un'attività che dura già da qualche settimana e ha prodotto i suoi risultati un arresto e un sequestro importante di oltre 4 kg di stupefacente di ottima qualità. È un sequestro e un arresto importante perché noi riteniamo che oltre 4 kg di hashish e i grammi di marijuana che sono stati sequestrati all'interno di questa abitazione, di questo pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, erano destinati, sono destinati alla piazza gelese e ai comuni limitrofi. Quindi probabilmente ci sia una rete di spaccio, noi stiamo ancora verificando e quindi ulteriori approfondimenti ne faremo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sicuramente rappresenta un sequestro importante, io dico essenzialmente questo, lo dico ai giovani, alle famiglie, state molto attenti, state molto attenti all'uso delle droghe leggere, vi portano sulla cattiva strada. È droga anche di ottima qualità dal punto di vista del principio attivo perché noi riteniamo che all'esito dell'arco d'est, tra l'altro, è risultato assolutamente positivo, quindi con un'alta percentuale di THC, si dice, in linguaggio tecnico. E soprattutto noi riteniamo che il sequestro sia altrettanto importante perché avrebbe fruttato oltre 40 mila euro di denaro contante se spacciato appunto al minuto. Comandante, oltre 4 kg di stupefacente, da dove arrivava, ma soprattutto come si fa a trasportare in maniera così indisturbata? Questo lo stiamo ancora verificando e accertando. Naturalmente le modalità di trasporto possono essere molteplici, si possono nascondere nelle borse, nelle valigie, all'interno di incavi delle autovetture, oppure in camion, camioncini, insomma, diverse sono le modalità di trasporto. Questo lo stiamo ancora, ripeto, accertando, ma soprattutto quello che stupisce è che era proprio nascosta lo stupefacente all'interno di un vano della cassetta del contatore dell'acqua. A chi era destinato il mercato esclusivamente di Gela? Beh, Gela e dico anche probabilmente i paesi limitrofi, quindi Niscemi, Butera e anche nei comuni limitrofi, anche probabilmente anche del Vittoriasi. Questo, ripeto, lo stiamo ancora accertando e poi ci saranno, ritengo, sviluppi anche nelle prossime settimane. Tenente, voi siete davvero molto operativi. Nelle ultime settimane c'è stata proprio un'attività mirata ad individuare un certo mercato rilevante di stupefacenti. Sì, i nostri controlli, come quello ieri sera, si inseriscono in questo controllo più ampio su Gela. Infatti, negli ultimi due mesi siamo già riusciti a trovare e quindi salvare 40 ragazzi, maggior parte di questi minorenni, proprio per uso di persone stupefacenti. La cosa importante di questi controlli, per noi carabinieri, è avvertire le famiglie, avvertire che c'è un problema nei loro figli. E questo controllo, come questo ieri sera, viene proprio fatto per aumentare questo aiuto che noi carabinieri offriamo ai cittadini gelesi e del circondario. Qual è la reazione dei genitori alla vostra chiamata? Spesso vi è sempre un effetto sorpresa, ovvero i genitori non si aspettano che il figlio possa fare una cosa del genere. Altri invece purtroppo avevano già un sentore, ma ovviamente non si auguravano una cosa del genere. Quindi la maggior parte dei genitori si trova sorpresi davanti ad un evento resimile. Altri invece hanno già dei sospetti. Le zone interessate maggiormente al traffico? Qui sulla città di Gela ci sono più punti in cui lo spaccio avviene. Sicuramente le le più sensibili sono il centro storico, soprattutto nelle ore notturne, in Piazza Salandra e Piazza Roma ad esempio, e anche le zone periferiche. Anche in parte benestanti a livello di fama, potrebbe essere questa anche in Machitella. Lei nel caleidoscopio delle possibilità, lo stupefacente può avere diverse tipologie di qualità? Pare che questa, dalle vostre analisi, risultasse una delle migliori. Il confezionamento come è avvenuto e di che tipo, scientificamente parlando, di stupefacente stiamo parlando? Allora, ieri sera abbiamo trovato la sostanza stupefacente divisa in più panetti. Questi contenevano ognuno suddivisi in 100 grammi la sostanza stupefacente. La sostanza in particolare ieri sera era veramente di ottimo livello. Ovviamente ottimo livello sembra un po' paradossale, però effettivamente il THC, che è questo principio attivo all'interno della marijuana e dell'Ashish, era veramente altissimo. Questo a noi operatori già risulta evidente in un primo livello empirico proprio, perché al tatto la sostanza si distingue proprio per una maggiore colusità. Mentre per quanto riguarda il materiale scadente, come potrebbe essere quello che possiamo trovare quotidianamente, si presenta una fattispecie molto più dura e secca. Quello invece individuato ieri sera era molto, ma molto resinoso. E quindi un THC molto alto e pericoloso per chi ne fa uso. Le indagini continueranno, nel senso che cercherete di capire come si allarga questo raggio? Sì, i nostri sforzi si concentrano soprattutto sul consumatore ultimo, perché da questo noi possiamo arrivare, ripercorrendo al contrario la catena della vendita, che ovviamente fornisce i ragazzi e i consumatori ultimi. Tentativo di suicidio la scorsa notte nel quartiere caposoprano a Gela. Un libero professionista di 61 anni si è lanciato nel vuoto dal secondo piano della sua abitazione. Ha riportato gravi ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto è giunta la polizia che ha interrogato i familiari. Una cinquantina di giovani e anche qualche bambino. Un flash mob organizzato nel cuore di Corso e Vittorio Emanuele per dire no alla spirale di suicidi che negli ultimi mesi si è registrata in città. Hanno ballato in strada per richiamare alla vita. Anche se ci fossero un milione di motivi per farla finita, spiega Giuseppe Quattrocchi, organizzatore del flash mob, c'è sempre un buon motivo per vivere la fede. Il flash mob, con tanto di riprese video, non ha mancato di attrarre l'attenzione di passanti e commercianti della zona. La danza per la vita non a caso ha avuto inizio proprio durante una delle ore di punta per il centro storico. Cambiamo argomento proposta per ridurre la tassa sui rifiuti utilizzando il sistema della ECOCARD. Porta la firma di Salvo Camiolo, segretario dell'Associazione Codici. Un'opportunità che può essere data ai cittadini gelesi più virtuosi in tema di raccolta differenziata. La tessera magnetica della ECOCARD si potrà affiancare alla raccolta porta a porta, consentendo di pesare le singole tipologie di rifiuto conferito, carta, plastica, vetro e lattine, nelle varie piattaforme ecologiche e punti di raccolta autorizzati di Gela. In questo modo i cittadini e le attività commerciali potranno accumulare punteggi registrati con la tessera che si tradurranno in una riduzione della tassazione. L'iniziativa che potrà inoltre coinvolgere anche le scuole attraverso l'installazione di isole ecologiche per la raccolta di plastica, carte e lattine in ogni plesso scolastico. I rifiuti verranno pesati e tramutati in punteggio che al termine dell'anno scolastico consentirà alle scuole di ricevere un premio proporzionale al punteggio raggiunto da utilizzare per l'acquisto di materiali didattici, strumentazioni e attrezzature. In questo modo la percentuale attuale ferma tra il 35 e il 38% potrebbe salire toccando anche percentuali importanti e permettendo soprattutto ai cittadini una riduzione della Tari. Grazie a questo sistema che si affianca al porta a porta i cittadini potranno accumulare durante l'anno punti registrati sulla tessera magnetica che si tradurranno poi in una riduzione sulla tassa dei rifiuti. Comandante, da quando si è insediato lei ha una spina nel fianco che è il porto rifugio. Ricordo molto bene la prima intervista dal suo insediamento nel corso della quale affermò che prima di andare via da questo porto, da questo ruolo, da questo mandato così importante il suo sogno concreto era quello di vedere riaperto e fruibile il porto rifugio di Gela. Ce la faremo? Bene, intanto allora dobbiamo dire che sono stato riconfermato per un ulteriore anno quindi mi dispiace ma ormai sono cittadino gelese a tutti gli effetti e ne sono onorato. Per quanto riguarda il porto rifugio, più che una spina il porto è una spina il problema di non poter riuscire a terminare determinate procedure che abbiamo instaurato già due anni fa come diceva giustamente lei. Però si è aperto un grande spiraglio e questo devo dirlo quasi in anteprima in quanto l'ultima riunione che abbiamo fatto in protezione civile grazie all'ingegnere Foti, poi era presente anche il comune, erano presenti Caltanissetta, Autorità e quant'altro abbiamo stabilito che nel giro di 4-5 mesi al massimo dovrebbero iniziare i lavori di escavazione quello che manca è fare la caratterizzazione anche se penso che non ci dovrebbero essere problemi visto che ormai la raffineria non crea più nessun tipo di inquinamento o quant'altro se mai ne abbia creato prima quindi in 4-5 mesi finalmente vedremo realizzato il nostro sogno vedremo finalmente un porto, il nostro bel porto funzionante la novità assoluta è che non soltanto si escaverà il porto a meno 4 metri quota 4 metri ma è previsto l'allungamento del braccio di un centinaio di metri di modo che non si insabbi più il porto un'altra novità importante è che entro il 15 giugno iniziano i lavori per lo smantellamento delle due camere cocche questa era un'altra spina che avevamo insieme perché era il benvenuto che mi è stato dato al Gela dalle due camere cocche sinceramente non è esaltante senza nulla vorrei togliere la loro funzione però come paesaggio devo dire che non è il massimo quindi anche questi lavori c'è stata presentata la richiesta da parte della raffineria di taglio delle camere per essere trasportati in un altro luogo il veto espresso dalla prima commissione affari istituzionali dell'ARS sul passaggio alla città metropolitana di Catania non è una vera e propria bocciatura ossia non si tratta di una bocciatura che irrimediabilmente mette la parola fine sulla vicenda è quanto sostiene il comitato Gelensis Populus che chiama a raccolta deputati del territorio sindaci e cittadini per portare avanti questa battaglia per vedere rispettata la volontà popolare quello che è successo in prima commissione afferma Liliana Bellardita portavoce del comitato Gelensis è una bocciatura in prima battuta degli articoli dei disegni di legge governativi che avrebbero consentito il ridisegno dei confini territoriali questa azione d'arresto tuttavia rimanda all'aula i disegni di legge con proposta di esame teoricamente continua l'avvocato Bellardita il Parlamento potrebbe bocciare la proposta della prima commissione ma perché si verifichi ciò si dovrebbe chiedere al presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone di portare in aula il verbale di seduta redatto dalla prima commissione poi con un'esplicita richiesta del Parlamento che boccia la proposta della commissione obbligare la stessa commissione a ritirare i disegni di legge utili al passaggio delle tre città del Gelese verso il nuovo Entetneo la prima commissione dovrebbe dare una giustificazione della sua decisione che potrebbe non convincere parlamentari a quel punto e il Parlamento potrebbe prendere una decisione in merito in quella sede se riuscissero a trovare i numeri il sogno del Gelese di liberarsi dal controllo nisseno potrebbe vedere la luce agli inizi dell'anno è stato approvato il bilancio di previsione del bilancio 2015 fuori dalla logica normativa e fuori da ogni ragionevolezza amministrativa tutto ciò venne fatto e propinato agli organismi istituzionali e alla città con lo strumentale impegno o meglio con la menzogna promessa con la menzognera promessa che il bilancio di previsione 2016 sarebbe stato presentato in tempi ragionevoli e non più tardi del mese di marzo come è riscontrabile nulla di tutto ciò la denuncia arriva da Peppe Di Dio, leader di Reset 4.0 una vera e propria bacchettata all'amministrazione comunale a proposito del bilancio partecipativo per Di Dio si ripercorrono antichi vizi e conclamate inefficienze e incapacità amministrative la speranza è sempre quella di essere smentiti nei e con i fatti per dare alla città un vero strumento di programmazione economico-finanziare al fine di individuare, programmare e finalizzare al meglio le scelte per affrontare le tante criticità che insistono nel nostro territorio con le nuove norme varate sulla stesura dei bilanci dei comuni sono stati introdotti correttivi sulla partecipazione popolare strutturata che ha come finalità il bilancio partecipativo preceduto da un regolamento comunale sul bilancio partecipato tra l'altro la nuova normativa prevede anche che il 2% dei trasferimenti regionali deve essere ancorato a iniziative proposte dai cittadini ma quando? chiede Di Dio Cambiamo decisamente argomento i castelli del Nisseno tra eredità culturali e visioni territoriali è la denominazione di un progetto promosso dal Lions Club Caltanissetta dei Castelli convegno di chiusura alla presenza di notevoli personalità della cultura c'eravamo anche noi, vediamo convegno e cerimonia di chiusura per il progetto i castelli del Nisseno tra eredità culturali e visioni territoriali ideato e organizzato dal Lions Club Caltanissetta dei Castelli preseduto da Fabiola Safonte nel circuito dei Castelli anche il Castelluccio e Granai Ducali di Gela Lancio senza dubbio positivo ad oggi e lo sarà spero anche dopo il convegno e nei mesi futuri si è trattato di un progetto molto articolato, complesso, ambizioso che ha viste coinvolti diverse realtà un comitato scientifico con studiosi di calibro nazionale e internazionale le quattro università, diverse società scientifiche le 12 amministrazioni comunali e le 12 prologo dei comuni interessati dei 15 castelli il club è impegnato in prima linea quindi in un'azione di servizio verso il territorio nell'anno del ventennale dalla propria fondazione in cui abbiamo deciso di non essere autoreferenziali quindi celebrando noi stessi come solitamente si può fare in questi casi ma di spendere energie, competenze e professionalità a servizio del territorio in un progetto che vuole mirare alla promozione e alla valorizzazione territoriali sì delle opere fortificate presenti ma anche del contesto, del paesaggio e degli aspetti rurali essendo comunque tutti i castelli posizionati in quelle che sono le aree interne quali possono essere le nuove prospettive di sviluppo economiche nel sud dell'Italia, in particolare nel territorio di Gela e Caltanissetta? Io a partire da questo convegno di oggi mi rendo conto e lo vedo proprio direttamente che questo elemento dei castelli può diventare un punto importante di attrazione per il territorio punto di posizionamento del territorio nelle reti della competizione globale che si fa sempre più forte veniamo da una cultura economica novecentesca per cui l'economia si sviluppa soltanto attraverso la produzione di beni materiali oggi sappiamo che la produzione di beni materiali è una parte sì importante ma non è sempre fondamentale in un'economia del territorio L'identità storica del sud Italia per qualche decennio forse si è smarrita sono state cercate delle forme di economia forse lontane dalla vera identità dalla vera anima dell'Italia, in particolare di questo territorio secondo lei è possibile fare della storia gloriosa di questa terra nuove prospettive d'economia? Mi occupo di storia perché sono molto interessato al futuro il passato non è soltanto un ritorno a qualcosa che non c'è più ma è il contenitore di tanti ingredienti che ci servono a progettare un nuovo modello di sviluppo oggi che quello novecentesco è chiaramente in crisi è un modello che ha progressivamente marginalizzato, espulso, escluso tanta parte del nostro territorio a partire dalle aree interne, dalle aree rurali, dalle aree montane e collinari che costituiscono i due terzi del nostro paese ci siamo concentrati sulle aree di polpa, sulle città, su poche coste è il tempo dunque di tornare a pensare allo scheletro di questo paese alle sue aree più periferiche, rugose, ma importanti Al convegno tra gli altri erano presenti un funzionario del Mibact e l'assessore alla cultura del comune di Gela, vediamo Dottore Volpe, è finalmente arrivato il momento in Italia di dare il giusto valore all'immenso patrimonio di beni culturali paesagistici in Italia perché ci chiediamo, lo chiediamo anche a lei se i padri della Costituzione dedicarono addirittura parte dei principi fondamentali alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali oggi ancora questo principio non è pienamente attuato, perché? Perché c'è un ritardo culturale, direi quasi ideologico in questo senso da parte di chi vede in contrapposizione tutela e valorizzazione che appunto, come lei giustamente diceva, sono già fissati nell'articolo 9 della Costituzione quando i padri costituenti hanno legato strettamente la tutela del paesaggio del patrimonio storico-artistico allo sviluppo della conoscenza e quindi a quello che noi oggi chiamiamo valorizzazione perché non ci può essere valorizzazione senza innanzitutto conoscenza quindi senza ricerca, senza comunicazione, senza restituzione di valore e di senso che non sono un qualcosa di statico ma è qualcosa di profondamente dinamico al patrimonio culturale invece il patrimonio culturale è stato sentito come qualcosa da tenere sotto teca o meglio in cassaforte e invece è un patrimonio diffuso di cui soprattutto le comunità locali devono riappropriarsi perché è innanzitutto il loro patrimonio non tutto può essere gestito necessariamente dallo Stato o dalle regioni ci sono cose che possono essere gestite direttamente ma ci sono la stragrande maggioranza delle presenze del patrimonio culturale che possono essere date in gestione in forme innovative in cui il pubblico fissa le regole fissa gli obiettivi e effettua un monitoraggio una valutazione ma poi si trovano le forme migliori che possono essere quelle di una piccola società, di una cooperativa di un professionista, di un'associazione lo si studi di volta in volta con progetti di gestione sostenibili e con buone idee da mettere in campo Gela entra a pieno titolo nel circuito dei Castelli grazie alla Lions di Caltanistetta dei Castelli e ci piazziamo con una bella fotografia un bellissimo scatto al terzo posto come il terzo scatto ma anche il castello uno dei più interessanti del territorio del comprensorio Sì, anche questo ancora una volta dimostra che abbiamo dei monumenti e delle opere che meritano di essere visti diciamo complimenti a Vincenzo Lauretta per la foto che ha fatto su Castelluccio che è bellissima e anche evocativa da un punto di vista veramente interessante il Castelluccio è interessante anche dal punto di vista architettonico con un'architettura squadrata perfetta in perfetto stile normanno è un'iniziativa del Lions di Caltanistetta interessante perché ha messo in evidenza e rilievo i castelli che ci sono nell'ex provincia e ha voluto inserirli in un contesto librario se di sicuro interesse Le organizzazioni sindacali confederali CGL e CISLEWILL della provincia di Caltanistetta hanno chiesto ai 22 sindaci del territorio nisseno di partecipare ad un incontro per affrontare la delicata questione in merito alla riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia legge 11 agosto 2015 numero 19 disciplina in materia di risorse idriche le organizzazioni sindacali trovano opportuno e non rinviabile un momento di interlocuzione e di alleanza in grado di unire gli intenti e perseguire obiettivi di interesse collettivo l'incontro è previsto presso l'Aula Consiliare del Comune di Mazzarino il 13 giugno prossimo alle 16 ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale da venerdì 3 giugno partirà la nuova fascia oraria della zona a traffico limitato in corso Vittorio Emanuele tra via Marconi e via Trieste a Gela ogni giorno la ZTL sarà attiva dalle 19 alle 3 nell'area saranno autorizzati al transito soltanto autoambulanze mezzi di polizia, antincendio, di protezione civile dei residenti che dovranno recarsi alle auto rimesse o spazi interni privati di sosto uscire da essi senza possibilità di sosta o fermata quest'ultima sarà consentita ai veicoli a motore preventivamente autorizzati che hanno attinenza con lo svolgimento dell'attività economica degli operatori che esercitano la loro impresa nell'area di vigenza della ZTL limitatamente all'espletamento di specifici eventi suscettibili di assumere particolare rilievo economico sociale e culturale tali comunque da poter assumere una dimensione che se non proprio collettiva di certo travalichi l'ordinario e quotidiano esercizio dell'attività economica esercitata disinfestazione e derattizzazione dei locali del Museo archeologico regionale di Gela si terranno nei giorni 3 e 4 giugno prossimi la riapertura al pubblico è regolarmente prevista per domenica 5 giugno dalle 9 con ingresso libero un incontro di calcio per evidenziare il valore della legalità diamo un calcio alla mafia l'iniziativa si è svolta questa mattina sul terreno di gioco dello stadio Vincenzo Presti in campo la squadra dell'associazione antiracket Gaetano Giordano è una rappresentativa dell'istituto di istruzione superiore Luigi Sturzo l'incasso di oggi sarà devoluto in beneficenza alla piccola casa della misericordia c'eravamo anche noi, vediamo siamo qui per disputare questa partita di calcio tra l'istituto Luigi Sturzo e l'antiracket scopo della partita naturalmente è quello di creare un messaggio messaggio della legalità quindi rispetto alle regole, convivenza civile e questo è importante perché il gioco del calcio si presta a questo tipo di obiettivo tra l'altro è condiviso anche dalla scuola perché già in passato ha realizzato diversi progetti diciamo che insieme a questo scopo della partita è anche la solidarietà perché viene raccolto un euro al ragazzo quindi la somma verrà poi devoluta all'associazione misericordia che la devolverà insomma alle famiglie bisognose a coloro i quali hanno problemi e quindi con questa partita raggiungiamo questi due scopi solidarietà e il messaggio della legalità è uno spettacolo oggi vedere in campo i giocatori dell'istituto commerciale dell'alberghiero perché sono animati dallo spirito veramente che hanno della legalità e quindi assieme alla nostra associazione antiracket che poteva esserci di meglio se non formare queste due squadre all'insegna proprio del rispetto delle regole quindi vediamo in campo i nostri giocatori li sto vedendo onestamente un pochettino appesantiti però devo dire che l'istituto commerciale, l'istituto alberghiero hanno non solo ragazzi preparati, ragazzi veloci, certo giovani ma anche loro professori devo dire sono veramente sanno giocare quindi oggi questa giornata la vogliamo dedicare proprio a tutti coloro che devono rispettare le regole tramite lo sport che lo sport è legalità e non discrimina questo è ormai il nostro slogan e questa mattina all'evento sportivo di solidarietà erano presenti anche le forze dell'ordine, vediamo Una bellissima iniziativa, è veramente piacevole vedersi sfidare comunque due squadre in maniera assolutamente amichevole siamo qua per garantire un ordine pubblico che non è assolutamente compromesso quindi contenti di esserci e rinnoviamo i nostri complimenti sia al presidente dell'antiracket, il dottor Renzo Caponetti sia al presidente dell'istituto alberghiero che ha consentito di partecipare anche egli a questa sfida Un connubio importantissimo tra la federazione antiracket italiana qui rappresentata dal presidente Caponetti Gaetano Giordano, l'associazione più numerosa consistente che ricordiamo in Sicilia e anche quella che ormai ha festeggiato i 10 anni di vita con una nuova sede inaugurata da poco e poi l'importante connubio con il mondo della scuola con l'istituto tecnico-commerciale qui rappresentato da Grazio Di Bartolo oggi non potevo mancare, sono appena arrivato devo dire grazie per l'invito ma soprattutto spero che questa partita sia da stimolo per insegnare alle nuove generazioni quanto sia importante l'opera dell'associazione antiracket della società civile accompagnata da quella delle forze dell'ordine della magistratura per il controllo e la sicurezza del territorio Fumata nera al campo Vincenzo Presti di Gela da parte dell'ispettore della Lega il terreno di gioco non è stato omologato al momento attuale sarà corsa contro il tempo per sistemare quello che in origine era uno dei manti erbosi misto naturale sintetico migliori del panorama nazionale insieme all'emissario della Lega presente al sopralluogo c'era anche l'assessore allo sport Eugenio Catania quello ai lavori pubblici Flavio Di Francesco oltre ai dirigenti del comune e alcuni rappresentanti del Gela Calcio è implacabile la decisione al termine dell'ispezione oltre al terreno di gioco bisogna intervenire anche in sala stampa e nel locale adibiti alla infermeria e all'antidoping è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui arrivederci